Radioattività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Mi segnalano, con divertimento, le goffe e scomposte lamentele di piccoli giamburrasca di provincia. Battendo ringhiosamente il piede a terra come dei bel zebu, questi piccoli giamburrasca di provincia si lagnano enfaticamente con la schiuma alla bocca del fatto che i quotidiani grandi come quelli piccoli, e perfino i quotidiani che loro con fervida immaginazione pensavano amici, li ignorano sovranamente, come se mai fossero venuti al mondo, come se fossero polvere sugli stivali della storia. Ovviamente, nella loro estrosa narrazione, si tratta dell'ingiusto trattamento persecutorio, quell'ingiusto trattamento persecutorio che gli imperscrutabili e mefistofelici poteri forti, nelle loro blindate e oscure cabine di regia, hanno malignamente decretato di riservare loro. Sì, proprio a loro che sono i martiri della libertà, i paladini della giustizia e gli ardimentosi redentori del genere umano. Un salto di qualità, certo difficile, si avrebbe il giorno in cui questi maldestri giamburrasca della politica contemporanea, questi goffi pierini che mirano a fare del dissenso una comoda poltrona, avviassero una seria quanto disincantata riflessione sulla propria irrilevanza e sui motivi che la determinano. Il giorno in cui, cioè, dall'analisi superficiale fatta finora delle cause esogene, riuscissero a traslare l'attenzione al più impegnativo piano dello studio delle cause endogene. Scoprirebbero, in tal guisa, che la propria consistenza culturale e politica, lungi dall'essere shakespearianamente intessuta della stoffa dei sogni, coincide né più né meno con il nulla impastato al niente, assenza totale di prospettiva culturale e di visione progettuale, di consapevolezza dei rapporti di forza e delle possibilità reali di emancipazione, ma poi anche mancanza pittoresca di riflessione di lungo periodo e di capacità di capire la cosa in vero più semplice e alla portata di tutti. Vale a dire che il passare la propria vita ad attaccare su YouTube le altre forze del dissenso significa essere inconsapevoli burattini del potere dominante. Sono, in quanto tali, deleteri per la causa del partito del dissenso di cui siamo faticosamente in cerca, partito che fatica a crearsi anche grazie a questi macchiettistici giamburrasca, il cui livore è inversamente proporzionale all'acume politico. Lo sottolineo giusto appunto per prevenire l'accusa di chi mi dicesse, e sarebbe un telum in belle sineictum, una freccia che non colpisce l'obiettivo, chi dicesse, dicevo, che anch'io con queste considerazioni contribuisco a frammentare il fronte del dissenso. Tutto il contrario, provo a edificarlo smascherando ciò che a oggi lo rende impossibile, e ciò affinché, individuato e rimosso l'inconsapevole burattino del sistema, il partito unitario del dissenso possa finalmente prendere vita. Eghelianamente, provo a negare il negativo per rendere possibile una superiore sintesi, una superiore sintesi che, giusto appunto, renda possibile il partito unico del dissenso, la voce unificata di tutti coloro i quali, per una via o per un'altra, sono giunti alla protesta contro il fanatismo economico del libero mercato cosmopolita, con tutte le sue varianti e le sue funzioni satellitari. La prima evocata riflessione sulle cause endogene indurrebbe, auspicabilmente, i nostri pierini dalla gracile struttura di pensiero, a scoprire che il silenzio, oltre che al nemico vero e valoroso, si riserva anche a colui del quale non v'è nulla da dire. Insomma, si può intenzionalmente non parlare del leone, già che si conosce fin troppo bene e si teme la sua forza incontenibile. E si può, al di là di ogni intenzione, non parlare della zanzara, da che si ignora la sua esistenza. Ebbene, prendere coscienza del proprio essere zanzara e non leone, può essere, in ambito politico, il giusto inizium sapientiae. Con Diego Fusaro